Da parte di questo governo, innesimo rinvio e nessuna soluzione per il lavoro povero. Il 17 di giugno a Roma sono scese in piazza 20.000 persone con il Movimento 5 Stelle per dire basta alle vite precarie. E ora coinvolgiamo tutti con una raccolta di firme per dire no alle paghe da fame. Serve un salario minimo legale di 9 euro lordi all'ora? Abbiamo una proposta in Parlamento? Non ci fermeremo. Grazie.